musica ma perchè ragazzi ma perchè ma perchè ma perchè cazzo vuole la mia ma perchè 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 che cazzo vuole la mia vita sto merda di coso che non è morto che vive qua da anni io non ce la posso più fare a vivere da solo i ragni non ce la posso fare a ucciderli mi fanno schifo quanto è grosso gesù mi fa veramente schifo mi fa vomitare il cazzo mi fa schifo cristo perchè devono esistere queste merde crepa bastardo è morto? è morto? no è ancora lì è morto? è morto? è morto? si muove porca troia puttana trepa non fate commenti su quello che avete appena visto Grazie a tutti